Superato questo difficile momento della elezione del Segretario, volevo annunciare che sull'ordine del giorno non ci ritroviamo e dirò velocemente perché. Per quanto riguarda questa fase di ascolto e per quanto riguarda la fase costituente del Congresso rimane un punto ambiguo. Il punto ambiguo è su quali assi portanti noi organizziamo questa fase importante di ascolto, di condivisione, di partecipazione nella vita del nostro Paese. Faccio tre esempi. Primo l'Europa. Se noi pensiamo che questa fase di ascolto e di condivisione deve essere sulla difesa dell'attuale Europa, siamo già in partenza destinati alla sconfitta. Abbiamo il coraggio di dire che la fase di ascolto si organizza intorno a una proposta che il Partito Democratico lancia a tutti i partiti progressisti europei, chiamandoli qui in Italia a condividere una fase costituente degli Stati Uniti d'Europa. Perché l'Unione Europea, ecco il coraggio che dovremmo avere, è una realtà che va smontata. Perché l'Unione Europea della realtà monetaria, delle disuguaglianze, della burocrazia deve essere sottoposta a severa critica da parte nostra, senza dubbi e senza incertezze, mentre gli Stati Uniti d'Europa a base sociale deve diventare la nostra direzione di marcia. Un generico richiamo all'Europa, una generica difesa dell'Europa oggi organizzata intorno all'Unione Europea ci presenta sì una fase del dialogo, ma ad esito scontato, disastro elettorale alle prossime elezioni europee. Così, il secondo punto che non ci convince è come ci rapportiamo al Paese. Il nostro Paese deve conoscere una nuova stagione di uguaglianza e di sicurezza. Dov'è l'errore che noi abbiamo fatto? Non abbiamo organizzato un'idea progetto per tempo, visto che questo tema metteva vittime elettorali in tutti i Paesi occidentali dove progressiste e le sinistre si candidavano. Non abbiamo messo a punto un'idea progetto sull'uguaglianza, un'idea progetto moderno, progressivo sulla sicurezza ed ecco che ci siamo poi trovati in difficoltà. Certo, non è stato il pluralismo il problema del Partito Democratico. Non è stata la possibilità di avere idee diverse all'interno del Partito Democratico. Poi figurarsi se è stato Michele Emiliano la causa della rovina del Partito Democratico, visto che tra l'altro poche settimane fa solo in Puglia abbiamo avuto su 11 comuni, 10 comuni dove il PD e il centrosinistra unitariamente si è vinto. E quindi non è un problema. E quindi non è un problema. E quindi non è la causa della rovina del nostro Partito Democratico e della sconfitta. Semmai la causa della sconfitta è che abbiamo sbagliato sulla scuola, che abbiamo sbagliato sulle politiche del mercato del lavoro, che abbiamo sbagliato sul tema del rapporto alla lotta alla povertà, visto che abbiamo 5 milioni di poveri in canna che vengono registrati. E l'ultima cosa e concludo è l'idea di partito. Noi nella Seconda Repubblica abbiamo destrutturato il partito noi e c'erano buoni motivi per mettere in discussione e superare il vecchio partito noi, per rapprodare un modello, il partito io. Nel partito io non c'è pluralismo, nel partito io non c'è territorio, nel partito io non c'è collegialità, nel partito io ci sta solo la dittatura della maggioranza, nel partito io c'è rottamazione. E ditemi un po' se è un linguaggio che si può utilizzare a proposito di rapporto con le nuove generazioni, visto il linguaggio volgare e violento che utilizza la Lega e in molte occasioni anche 5 Stelle. Ecco perché abbiamo bisogno, anche in questa fase costituente, di rimettere in piedi un partito noi, perché è il partito io e il male. Ecco perché abbiamo bisogno di una fase costituente che ci presenti un modello di partito e si discuta come deve essere un partito formativo, progettuale, territoriale, pluralista, capace di essere moderno e nello stesso tempo però di conservare una radice antica, un partito comunità, un partito che ci tiene insieme, un partito che ci fa crescere tutti insieme. Ecco perché non siamo d'accordo con la vacuità di quest'ordine del giorno, un ordine del giorno che non scioglie quali sono le coordinate, gli assi portanti del cammino che dobbiamo fare e quindi non lo votiamo. Grazie. Tre minuti al segretario della Federazione di Roma, Andrea Casu, che deve raccontare alcune cose, ahimè, spiacevoli accadute nella nostra città. No, io vi ringrazio anche...